Bene, buonasera a tutti voi da Manco Spader Watch & Clock, questa è una settimana di transizione, siamo in mezzo tra la Pasqua e il 25 aprile, per cui a Milano generalmente in queste fasi sembra quasi sempre festa, perché la gente nei weekend in modo particolare, ma anche durante la settimana se ne va, tranne adesso, questa settimana in particolare, perché c'è il Salone del Mobile e di Salone del Mobile è una delle fiere più importanti nel mondo qui a Milano. Va bene, allora saluto gli amici, l'Angelo soprattutto, il grande Angelo, Alessandro, Michael e Livio, sono i miei quattro amici storici, poi saluto il mio clientino di Salerno, di Caserta o di Salerno, non mi ricordo più, porca miseria, ma tanto lei sa chi è. Poi saluto il mio amico che è venuto a trovarmi il sabato, odonto tecnico di fuori Milano, carissimo, poi un po' di persone che lentamente ma inesorabilmente si stanno riavvicinando al mondo degli orologi e lentamente anche lì stiamo ripartendo. Per chi ci segue da un po' di tempo avrete notato che c'è stato un po' di mancanza di prodotto dovuto soprattutto vabbè a un seguito al furto che avevamo subito a dicembre, a gennaio, a Natale voglio dire. E poi comunque lentamente avevamo problemi perché la merce avendo subito il furto e il danno al negozio e tutto, la merce non la tenevamo qua quindi avevamo problemi un po' a movimentare. Abbiamo risolto questo problema e quindi adesso vedrete che riprenderemo il trend, intanto sempre per i saluti continuo delle piattaforme, quindi stiamo parlando di Instagram, di Youtube, ricordo gli amici mandatemi pure i commenti su lì, registratevi anche per avere le notifiche e questo vi permetterà di avere poi le informazioni prima degli altri con pezzi particolari, esempio quello che vedete in vetrina oggi che è il breguet serie limitata, quello renovale marina francese. Ricordo poi che tutti gli orologi che vi presentiamo possono essere finanziati da un minimo di 12, massimo 60 mesi, cifra massima 25 mila Euro, vi ricordo che è per la regione Lombardia. Poi siccome siamo su Youtube, siccome siamo in giro e quindi ci vedete un po' dappertutto, se ci contattate possiamo vedere di organizzare tenendo in considerazione il fatto che la finanziaria è Cofidis, dico bene, Compass cambiato, non la zecco mai, ce ne sono tre tutte le volte che ne dico una e l'altra, ma lo spedo è il bello della diretta, va bene, allora si agli acquisti ragazzi, se voi volete vendere qualcosa siamo qui a vostra disposizione, ricordo amici cari delle vendite che io ho sempre detto, se potete evitare di vendere questo fatelo, se invece avete di bisogno ci chiamate, ci contattate, vi diamo dei valori, i valori sono quelli di mercato, come fate voi a capire se i valori sono quelli di mercato? avete Crono 24, avete tutti gli strumenti per non passare per fessacchiotti, ok? Quindi tranquilli che ormai… parlavo con un po' di… ma spedo, cosa volete? Allora io compro l'orologio nuovo ed era per quello che stava parlando di orologi recenti, c'è ancora gente che ti ripropone e qualcuno ogni tanto va via, ma se tu compri un orologio listino, poco più listino, vabbè se si abbassa va sotto il listino e perdi poco, ma se no rischi sempre, perché c'è ancora gente che per certi modelli che hanno avuto successo c'è interesse, però poi siccome il mercato è sempre per queste cose fuori prezzo, sempre per Daytona e altro, ma anche loro stanno subendo un ritorno alle origini e quindi diventa un po' complicato, allora bisogna fare attenzione, tenere sempre in riferimento Crono 24, ogni modello, voi avete le proposte mondo, per cui avete un riferimento reale di quello che è il mercato, ok? Allora partiamo subito con, subito, partiamo quasi subito col Breguet Tai 20, questo signori è una serie limitata a mille pezzi e come vedete rispetto al Tai 20 tradizionale che ha la ghiera lucida, questo ce l'ha all'interno nera satinata e cambia, cambia effettivamente il look dell'orologio, l'orologio è nuovo, incredibile, perché è stato prodotto 14 anni fa più o meno, ok? Comunque, vedete, pellicola di protezione, assolutamente nuovo, completo di tutto, prezzo 7500 Euro, tenete presente che è nuovo, in rete qualcuno lo vedrete usato e vengono richieste cifre tipo 8000, però andate a vedere, fate i vostri, questo è un orologio molto interessante. Proseguiamo ora con l'orologio di forma top, top, allora ricordo che il gran taglie, il reverso è quello che ha questo tipo di basculamento della cassa, vedete, ma la cosa interessante e che mi preme dirvi è che negli anni ho percepito, l'orologio di forma non piace a tutti, ma se piace il reverso è il numero uno, questo è gran taglie, carica manuale, è un fondo di magazzino, scatola e garanzia, il prezzo 9000 Euro e al suo fianco il fratello minore, reverso classic, questo ha dimensioni, diciamo che fondamentalmente il gran taglie potrebbe essere paragonato a una cassa 40, mentre invece questo, dei Rolex per esempio, uno sportivo, mentre invece questo ha, che è un 36 mm, dei Just, ok? Ed è il reverso classic, carica manuale anche lui, scatola e garanzia, completo a 5000 Euro. Oggi abbiamo anche un pezzo particolare, che è questo portoghese, ma come vedete questo portoghese, ha un tasto in più a ore 10, è il rattrappante, ricordo signori che il cronografo rattrappante, in questo caso carica manuale, serve alla doppia lancetta e serve per i parziali, praticamente il digitale ha il doppio schermo, mentre invece questo ha la doppia lancetta, quindi quando scatta la seconda lancetta per cronomettare il parziale, rimane ferma e parte l'altra, ok? Il crono di UIVC portoghese ha 5200 Euro, scatola e garanzia, guardate che era un orologio che a meno di 7-8 mila Euro non si trovava, ho notato che i prezzi sono diminuiti notevolmente e quindi ho pensato bene di inserirlo nella collezione da presentarvi, quindi scatola garanzia 5200 Euro, ok? Ora vi faccio vedere un bellissimo ore del mondo in oro rosa, molto interessante il fatto che la zona centrale, voi sapete che, se non lo sapete ve lo dico io che è tanto uguale, oro giallo è scura, poi c'è oro bianco che è nera, il platino la zona è blu e l'oro rosa ce l'ha cioccole, ok? Questo abbinamento, cioccole e oro rosa è uno degli abbinamenti che al pubblico è piaciuto di più. La cosa molto interessante di questo orologio è che è stato prodotto col cintuino pelle e col bracciale in oro, questo ovviamente come vedete ha il bracciale in oro, vi faccio vedere le maglie, è una maglia bellissima, vagamente richiama il giubilei della Rolex, comunque è una maglia molto comoda, la richiesta per questo orologio che non è in produzione da anni ed è nuovo scatola garanzia, 70 mila Euro. Ora il 5711, questo è uno dei primi, normalmente viene chiamato Mark 1, quindi stiamo parlando 2007-2008, calibro 315, prodotto per pochi mesi, richiesta 105, pochi mesi, poi li troverete anche a meno, ma non sono calibro 315, il calibro 315 è raro, la maggior parte sono calibro 324 e poi 330 è l'ultimo che è stato fatto per un anno più o meno, per cui su 12 anni di produzione, 6 mesi col 15, un anno col 330 e tutti gli altri sono 324. Ultimo orologio di oggi, il 71-18, scatole garanzia, l'orologio ha un 36 di diametro ed è la variante che richiama il 3800, che era quello che facevano precedentemente, l'orologio è nuovo, completo di tutto, scatole garanzia, 50 mila Euro. Bene, questa era la presentazione della prima parte e ne approfitto adesso per ritornare su alcuni argomenti, in uno in particolare che mi preme perché quando parlo con signori che sono collezionisti, che hanno diversi orologi in casa e tutto, io dico delle cose che ho sperimentato sulla mia pelle negli anni, quindi si tratta di ragionare in questi termini, io parlo con voi, con voi collezionisti e lasciandovi parlare e vinco più o meno sempre le stesse cose. Faccio un esempio, il collezionista tende, intanto all'inizio decide l'articolo e poi punta su quello. Una volta che si è un po' stancato, il passo successivo è quello, io ho 10 orologi, li metto insieme e ne preferisco averne due importanti che averne 10, ok? Questo è un po', non vale solo per gli orologi, ma vale anche per tante altre cose. Se voi avete amici che hanno collezionato, fateci caso, fategli la domanda, chiedeteli se questa è una strada che loro percorrerebbero, che hanno percorso, vedrete che la maggior parte vi diranno questo. Io me ne sono accorto nel tempo, ripeto, parlando con la gente, per cui alcuni di voi hanno collezioni, hanno collezionato tanti orologi, magari anche importanti, molti si sono approcciati al mondo dell'orogeria, hanno prima ascoltato quello, non quello che dicevo io, ma quello che dicevano le persone come me anni e anni fa, quindi persone che avevano un certo tipo di esperienza, che avevano visto come era il mercato, quali erano le cose, il denominatore comune per poter far sì che una collezione poi incrementasse il suo valore nel tempo. Poi, chiaramente, c'è stata la crescita in tutto, poi c'è stata una bolla che non era mai accaduta in tempi passati, per cui è proprio vero che tu pensi di averle viste tutte e invece c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere. A questo punto, spesso mi trovo con persone che hanno voglia magari di alienare la collezione, però i tempi magari possono essere sbagliati. Faccio un esempio, adesso non è il momento migliore per vendere un certo tipo di orologio, virgola. Però, se tu hai intenzione di preparare il terreno per vendere delle cose che devono essere particolari, non sono le cose, non è il submarino, il GMT, ma orologi un attimino che hanno magari anche un valore nettamente superiore, del quale bisogna spiegare un attimino quali sono le caratteristiche e qual è la chiave di volta per far sì che si possa vendere l'orologio e quindi proporlo, pasturare, come dico io, e quindi arrivo al punto, quando parlo con i collezionisti, dico se c'è qualche collezionista che non ha fretta, che non deve vendere tutta la collezione insieme, perché se vendi tutta la collezione insieme sai già che va indietro, quello è l'ufficio, è una cosa, vuoi vendere il blocco? Certo, però paghi la morte. Se invece ne vendi uno ogni tanto, hai la possibilità di portare a casa di più. Se poi trovi uno come lo spedo che ti dice, guarda, io lo compro il tuo oggetto, però se me lo dai in conto vendita e mi lasci lavorare, io cerco di farti prendere il più possibile. Sto dicendo queste cose da un po' di trasmissioni, perché vi dico tranquillamente che, non so, avevo il pagolo ad oro bianco venduto, avevo l'odemarschi elettrico in oro rosa e è andato via. Tanti oggetti particolari che avrei comprato io come commerciante, non io come micro spedo, ma io come commerciante avrei comprato a una cifra, ma avendo potuto lavorare e quindi non erogare quattrini, ma accontentandomi di una piccola provvigione, ho fatto prendere di più alle persone che me l'hanno lasciato e io ho guadagnato. Quindi ci diamo una mano tra voi e il sottoscritto e otteniamo quello che è il bene comune. Spero di essere stato chiaro, per maggiori chiarimenti mi chiamate, sono a vostra disposizione, non fatemi la battuta, quello che mi scrive, spero che tira fuori i soldi, che non c'è il braccino corto. Non c'è il braccino corto, cerca di usare il cervello. Io sto dicendo delle cose non perché voglio fare il mago, voglio fare il magheggio più che il mago, voglio solamente cercare di rendermi utile e essere utile, oltre che per me stesso, anche per voi che mi state guardando. Andiamo sugli orologi e guardiamo adesso questo bellissimo 3008, saluto il mio amico odontotecnico che l'ha visto. Questo è un orologio ragazzi che spacca. Allora, se andate in rete, ne trovate uno sigillato, che è tanta roba, perché è tanta roba del 93, questo è un orologio del 93, quindi sigillato lo trovate a 106, 107, 108. Questo è nuovo ma non è sigillato, 95. L'orologio è spettacolare, è nuovo, comprato da un mio caro cliente, a modo di investimento, comprato e messo in cassetta. Quindi l'orologio è nuovo e qui il cliente ha il suo nome, il concessionario, era un concessionario famoso, Patek e sulla garanzia c'è il nome di questo mio cliente. Quindi è tutto lì scritto, è tutto a prova di controllo di quello che vi sto dicendo. In più, poi, l'orologio è qui da vedere e guardate, quando io vi metto un orologio di questi, bracciale e cassa, in questo modo qua, guardate come sta sulla testa, non esiste un orologio usato che possa stare così, ok? Perché le maglie sono tutte attaccate una all'altra e cassa e bracciale integrato, questo deve fare l'orologio nuovo, ok? Quindi 95.000 per il 3.800 Nautilus in oro giallo, sì, l'ho messo al contrario, vabbè. Poi, qui abbiamo la versione in acciaio, col quadrante bianco, del 3.800 Nautilus in oro giallo, ok? L'orologio ha un estratto, il prezzo di questo orologio 45.000 Nautilus in oro giallo, è un anni 90, adesso l'anno preciso non lo ricordo, però c'è l'estrato, c'è tutto, per cui nessun problema. Andiamo oltre e abbiamo qui un 57.12, l'anno è 2.000 e credo 10, vediamo, 10 o 11 comunque, completo di scatole garanzia e il prezzo, siamo ancora su richiesta ragazzi, anche perché non ho interesse a, come dire, questo è un orologio che Patek toglierà dalla produzione, ve lo dico, lo so per certo. Voi mi dite, ma ancora in consegna, ancora in produzione? Sì, è vero, voglio vedere a chi li consegnano, comunque in previsione questa è una referenza che verrà tolta e voi sapete che se la referenza viene tolta l'orologio già ha un valore aggiunto. Comunque, completo di tutto, prezzo su richiesta, ve lo dirò. E qui abbiamo invece il 50, questo lo devo tirare su perché va visto nella sua integrità, allora 59.80 è nuovo, voi sapete che poi la Patek fece il 59.90, questo lo chiamavano polifemo perché aveva solo un compasso, l'altro aveva due compassi, uno a ore 12, l'altro a ore 6. Comunque, questo è nuovo, versioni sono state fatte qua da Ante Argentè, l'Antracite, questo è il blu, questo è il blu ed era il più richiesto. Comunque, nuovo, garanzia in bianco da adattare, l'orologio arriva da un concessionario di Bergamo che non c'è più, completo di tutto, nuovo, c'è tutto veramente, il prezzo di questo 155. Abbiamo ora lo zenith, saluto il caro amico del sud, allora guardatelo bene perché questo è un orologio in condizioni eccellenti, perfetto. Sai dove devi guardare perché per capire se quello che dico io sono balle o meno, devi guardare la ghiera e vedere quanto i numeri, vedi 150, 110, sono belli vivi e non essendo stata lucidata la ghiera, avere la parte nera che è bella sana, la vedi che è bella viva. Io purtroppo non ho qui altri orologi, ma mi è capitato di vederne con le lucidature fatte dove queste incisioni dei numeri sono quasi poco vedibili, insomma, mettiamola così. Ok? Spero di essere stato chiaro, comunque per quelli che magari hanno dei dubbi, andate su Google, mettete la referenza in questione che è 16 528 e mettete immagini e poi andate a vedere e ne vedrete delle belle. Ok? La richiesta per questo che ha l'estratto di Rolex, quindi è stato il Rolex a fare il service, 43 mila. Daytona, acciai oro, quadrante nero, ultima generazione. Rolex è nuovo, completo di tutto, 22 mila e 500 euro è la richiesta. E qui abbiamo il Daytona 116 520 Chromalight, nuovo con pellicole. Avete notato che per alcuni orologi le versioni con pellicole hanno avuto una flessione, e io sono convinto, anzi non dico sciocchezze, se vi dico guardate quelli lì, secondo me avere i soldi sono da comprare, sono da comprare e mettere via, proprio perché sono ancora sotto con pellicole e tutto. Vedrete che nel tempo e non fra anni e anni, ma nel breve tempo vi darà soddisfazione. Scatola e garanzia, l'orologio è del 2016 più o meno, se non è 15 e 16 perché ne abbiamo due, uno è 15 e l'altro è 16 uguali. Prezzo? 27,5. Allora intanto ricordo che tutti gli orologi che vi presentiamo li acquistiamo da privati, al 95%, i quali ci rivendono e noi li mandiamo in laboratorio. Il laboratorio li controlla, li lava se sono da lavare, vuoi dire ma come lavare? Certo, vanno lavati, vanno messi nell'ultrasuoni, perché? Perché molti orologi hanno del materiale all'interno, nell'intercapedini e quant'altro, perché la gente magari suda, magari è, e quindi io non posso darvi l'orologio col DNA del precedente proprietario, ok? Quindi va smontato, messo nell'ultrasuone, suoni e viene lavato in questo modo qua, ok? Nel caso poi di quelli portati in qualche modo, si lucidano, però tendenzialmente noi cerchiamo di farlo il meno possibile, anche perché per certi orologi come i Rolex, l'acciaio, hanno una protezione e questa protezione dell'acciaio, se tu la lasci, cioè se tu lucidi, la porti via, due o tre lucidature portano via questa protezione. Cosa serve questa protezione? Quando tu hai l'orologio d'acciaio, questo vale per, direi, primavera e estate, eh? Quando tu hai l'orologio d'acciaio, anche questo se vogliamo, che lo porti tutti i giorni, dopo una volta al mese, mettiamola così, se sei una persona un attimino che non ci dorme la notte, non vive l'orologio in modo corretto, cosa fai? Lo togli dal polso, spazzolino da denti, quello di Carlo Cudega, quello che usavi una volta, non lo usi più, per cui le setole sono fini, sono leggere, ok? Sapone, acqua e via, lo passi, quindi lo lavi anche sotto l'acqua corretta, non è un problema, perché sono impermeabili, chiudi bene le viti, nel caso dell'orologio solo tempo, chiudi la corona, passi, passi, lo pulisci, lo lavi, eh? Lo sciacqui, poi lo asciughi un po', con l'asciugamano, io uso, a me piace usare lo scotex, eh? La carta quella lì, poi leggermente, non troppo vicino, il phon, lo asciughi e tutto lo lasci lì, non lo asciughi completamente, ma comunque gli dai il via, lo lasci lì, dieci minuti, un quarto d'ora, venti minuti, quando lo vai a prendere, brilla come se fosse nuovo, voi andate, e perché questo? Perché c'è quella benedetta protezione che vi dicevo, che serve a queste cose qua, ok? Quindi sono tutte cose che ragazzi, io ho detto già tante altre volte, però mi ripeto perché ci sono sempre quelli nuovi che non lo sanno, quindi lo dico più che altro per quelli che mi sentono da una vita e dice, porca miseria, ma lo spedio è arteriosclerotico, ripete sempre le stesse cose, sì, devo, ma non mi dà fastidio, spero non lo diava anche a voi, ecco, comunque, ok? Quindi questo era un, dicevo, parlavo del, quello che fa il laboratorio, cioè lo smonta, lo lava, mette il suono, poi lo rimonta, intanto che tutti i pezzi siano, a quel punto la garanzia che rilascia la watch and crock su tutti gli orologi, quelli che hanno la garanzia magari scaduta o la garanzia della casa madre, più quelli che non ce l'hanno la garanzia, noi mettiamo a tutti la garanzia nostra, cosa serve? Serve intanto a dirvi che l'orologio è stato controllato da noi, che quando ve l'abbiamo venduto è perfettamente funzionante e anche lì c'è una data, per cui considerate che noi non facciamo la revisione, perché se la dobbiamo fare la facciamo a voi, ma se non è da fare non la faccio, anche perché è un costo, è una cosa che va fatta ogni 10, 12, 15 anni a seconda dei modelli che hai per le mani, per esempio gli ultimi, quelli più recenti, è un po' più fatica arrivare a 12, 13 anni, soprattutto il Rolex, perché avevo detto già in tempi non sospetti che avevano cambiato il liquido lubrificante che era un liquido a tempo, invece di arrivare a 12, 13 anni, Massimo arriva a 6, 7, 8, come te ne accorgi? Te ne accorgi perché l'orologio non funziona più come prima e ti dico, ma qui bisogna fare la revisione, la revisione va fatta noi in Rolex, le rilasciamo un documento, però la milletta ti va via, allora la milletta sull'orologio che non è in produzione da anni, non è più in produzione da anni, va bene, ma la milletta sull'orologio recente, a meno che tu non abbia perso la garanzia e quindi ti serve un qualcosa che documenti l'orologio, non so, io non la farei, voi vedete fate quello che l'orologio è vostro, quindi ritornando sempre a quello che vi dicevo, di quello che facciamo noi come Watch & Clock, se c'è la revisione da fare dopo 2, 3 anni che ve l'abbiamo venduto, non è che vi diciamo, no l'hai comprato da noi, l'occhio di riguardo c'è, quindi tutte queste cose servono un po' per fidelizzare la clientela nei limiti del possibile, comunque poi ricordatevi sempre che noi le revisioni, i servizi sugli l'orologio, li facciamo tutti, ma non è una roba, lo facciamo volentieri ai nostri clienti, ma ad altro pubblico io non li faccio, anche perché il tecnico non ha mai tempo, mi dice, ma manco io ho altre cose da fare, 2 mesi, 3 mesi, ma guardate che poi questo vale anche per le case madre, molti dicono, oh beh lo mando la casa madre, ma la casa madre che faccia che la tieni via dai 4 ai 6 mesi, giovanotto, riflettici su queste cose che tu dici, no ma io voglio essere tranquillo, va bene, l'importante è che tu sappia che per mezz'anno tu l'oggetto non c'hai più e se ritardano non è che ti avvisano prima, si vede che c'è stato qualche problema, si vede che, ok, tanto c'ha sempre ragione loro, articolo quinto chi ce l'ha in mano ce l'ha vinto, per cui sarà Sandeto, va bene, credo di aver detto tutte le cose inerenti al laboratorio, andiamo avanti, questo è un GMT nero-azzurro di prima produzione, quindi 116, 710, nuovo con pellicole, completo a 20 mila, perché poi ci sono quelli subito dopo, hanno cambiato, hanno fatto il 126 e il 126 la maggior parte, quelli che ho visto in giro sono Giubilè e devo dire ragazzi, qui lo dico e qui lo ribadisco, tendenzialmente il bracciale Giubilè al pubblico piace di più e onestamente anche a me non dispiace, va bene comunque, non che l'Oyster faccia schifo, è il contrario, è sempre andato l'Oyster, però c'è questa tendenza un attimino a voler, dove è possibile sostituire il bracciale Oyster col Giubilè e il GMT, per esempio non vedrete mai un summarine col bracciale Giubilè, il bracciale Giubilè li troverete su il GMT oppure sui 41 mm dei Giubilè e Just Oyster, ok? Andiamo avanti e siamo ora sul GMT 16,710, no 700 perché è il GMT 1, l'orologio ha la garanzia del negozio e il prezzo accattivante di 9 mila, GMT 1,16,700, le condizioni sono ottime, è incompleto ed è per questo che costa rispetto al mercato meno, normalmente l'orologio così completo ha un 2.500, 3.500, un range tra i 2.500, 3.500 superiore, ok? Siamo ora sul 16,570, questo ha il calibro 31,86, vi ricordo già detto tante volte, comunque il calibro 31,86 è il calibro che è stato messo su questo modello per un anno, poi portato sulla versione nuova, quindi 116, ok? L'orologio qui è completo di scatole e garanzia, la richiesta 10.500 Euro, guardate che voi esteticamente così lo guardate e dite ma come gli altri che costano 8,5-9, sì è vero, ma non sono calibro 31,86, siccome c'è una scuola di pensiero vintage che dice di un oggetto prodotto per tanti anni, se viene sostituito il calibro e quel calibro è particolare e sono stati fatti pochi pezzi, va da sé che il valore è diverso, vale per l'esplore ma vale per qualsiasi orologio, pateco, demare e quant'altro, ok? Vamonos e ora siamo sulla versione quella Explorer 226,570, questo è uno degli ultimi, anzi l'ultima versione di Explorer 2 e la richiesta, nuovo, 11.000 Euro. bene, ogni tanto sentite il silenzio perché devo bere un po' d'acqua che qui la gola si secca, lo spedio parla, parla, parla e poi… e qui siamo sullo Yachtmaster 16 622, Rolesu, completo, scatole garanzia, 9.500 Euro. Il si duelle a scritta rossa, allora guardate ragazzi, come arrivano diverse mail, spedio, ma avevi detto che probabilmente smettevano di produrlo, allora le voci ci sono, continuano a esserci, io pensavo che con il Ginevra avrebbero poi detto quali orologi smettevano di produrli, invece non hanno accennato nulla, quindi ci sta che nell'arco dell'anno, ma la Rolex le fa queste cose senza avvisare nessuno, da lunedì questo orologio non è più in produzione, cosa vuol dire? Non è che non lo consegnano più, ci sono degli ordini che vanno consegnati, ordini fatti precedentemente, loro lo consegnano e poi dopo basta, finito, quindi magari vanno avanti sei mesi a consegnarlo, ma la deadline è data, quindi comunque questo orologio noi lo vendiamo nuovo con pellicole a 16.800 Euro, ma tenete presente che per il momento non ve lo suggerisco, nel momento in cui dovesse uscire di produzione, allora quello sì. Andiamo a quello che è comunque sempre la famiglia degli sportivi, su Mariner questo è il 16.610, l'orologio è del 90-90, completo di scatola garanzia e la richiesta è 9.400, no 9.400, 9.400 lo mettiamo sul crono 24, perché abbiamo delle royalties da pagare a crono 24, per cui quando mettiamo gli orologi sul crono 24 siamo obbligati a vendere a quella cifra lì, a meno che non mi contattate direttamente qua, allora lo dico questo per quei signori che loro non ci pensano perché questo qui è un problema che abbiamo noi, ma che avete anche voi, se voi vedete un orologio sul crono 24, che sapete, ma questo io lo spedo, come si fa a capire qual è, a parte che c'è modo, c'è modo perché hanno messo dei paletti, ma sono obbligati a mettere il nome del venditore, il problema è che te lo nascondono, allora per quanto riguarda Noios, noi abbiamo un modo di, per il momento ancora non ce l'hanno copiato, a breve ce lo copieranno, comunque mettiamo un orologio con quattro foto, normalmente gli altri hanno una foto unica, noi abbiamo quattro foto con i dettagli, ok? Quando vedete di un orologio quattro foto, lì sul crono 24 siamo noi, comunque, il prezzo, questo ve l'ho detto, 9 mila, 400 Euro sul crono 24 e 9 mila qui in televisione, qui da noi in negozio, il motivo ve l'ho spiegato, abbiamo il 6% di percentuale da dare al crono 24, che ci fa a tutti quanti noi commercianti così contenti? Vamonos, andiamo sull'altro sumariner, questo è uno dei due sultan, il sultan voi sapete, sono due, se non lo sapete ve lo dico io, uno è argento, quadrante antracite e diamanti e zafferi come questo, l'altro è questo, che è un champagne ma virato, vi ricordo che per i quadranti virati, siccome sono diventano, col fatto del viraggio diventano pezzi unici, hanno un valore, questa è scuola vintage, hanno un valore aggiunto, questo è bellissimo perché è virato, perché se fosse il quadrante champagne, io vi dico lasciate stare, anzi, io per primo non l'avrei preso, invece quando l'ho visto l'ho preso subito perché è un spettacolo, è quasi bello come l'antracite, l'antracite è più bello secondo me, ma costa anche di più, prezzo di questo 15,5, scatola e garanzia. E qui abbiamo il Wimbledon, Wimbledon ragazzi nuovo, anche questo in alto di quegli orologi è introvabili, prezzo 12.500 Euro, siamo ulteriormente scesi, finalmente ci stiamo avvicinando a tutti, come dire, a breve arriveremo praticamente con tutti a listino, vedrete, dopo poi magari ripartiamo al momento, ore romane verdi applicate, Wimbledon è questo, con la ghiera in oro bianco è la versione più bella, anzi, la versione più bella anche qui col bracciale Giubilè. Comunque, poi ci sono gli appassionati dell'Oyster che non lo mollano mai e quindi, ma io trovo che a Giubilè sia molto interessante, poi l'ho provato al polso e vi garantisco che l'orologio pesa meno, il bracciale quando lo metti al polso, va bene, dovete provarlo, non posso spiegare a voce le sensazioni. Andiamo oltre e siamo sul Tiffany, questo è il 41, ragazzi, adesso stiamo andando verso l'estate, questo con l'abbronzatura, ma divento bello anch'io con questo orologio qua e l'abbronzatura, no, con l'abbronzatura sicuro. Allora, orologio che non è più in produzione, molto richiesto, prezzo interessante, l'orologio è nuovo, 25 mila, scatto la garanzia. Abbiamo anche la versione 36, bene, andiamo avanti. Sì, ecco, molto importante, bravo che me l'hai detto, pa, porca miseria, allora mi ascolti quando parto. Allora, l'importante è che, siccome ne hanno fatti tanti quadranti non originali, l'importante è che quando lo comperi ci sia l'etichetta che viene rilasciata dalla Rolex e che descrive l'orologio con un numero identificativo del colore del quadrante. Quindi ci deve essere quel numero lì per far sì che tu sappia che l'orologio è uscito dalla Rolex con quel quadrante. Nel momento in cui non è quel quadrante lì, cominci a farti seno dalla croce, ok? Avendo quel numero. Richiesta, questo 25 mila. Andiamo avanti, andiamo sul Dayjust 36, nuovo, completo, 126, 200 e il prezzo di questo anorologio nuovo, 8200 euro. Nuovo, 36 mm è il diametro, vammi pure su questo che è sempre un 36, ma 16, 200, quindi un po' più datato. Richiesta, 5500 euro, garanzia negozio. Bene, qui abbiamo un Everrose che è il Boy, 31 mm, acciaio oro rosa, bracciale giubilea scomparsa. Fantastico questo orologio da donna, nuovo, completo, a 10.500 euro. È decisamente molto interessante. Altro 31 mm, come questo, è questo Boy, acciaio oro giallo, chiusura scatoletta, la garanzia del negozio, 4.800, il prezzo di questo orologio, eh? 10.500 euro, 4.800 latino. Certo, ci sono una ventina d'anni di differenza, però. Bene, andiamo sull'Oyster Quartz, ghiera in oro bianco, qua davanti è blu. La referenza di questo... scusate che vi metto, non lo metto un po' più... ecco. 17.014, ricordo che è già stato fatto negli anni 80, fine anni 80, comunque vabbè, il prezzo 7.000 euro. Avendo finito con i Rolex, partiamo qui con un cartierino, il Lady, acciaio oro, garanzia del negozio, 2.800 euro, l'orologio è un quarzo. Vammi ora su Audemars Piguet e qui siamo sul 35.5. La referenza è 4.100, l'orologio è stato in Audemars, ha il service completo, il prezzo 22.000 euro. L'orologio è un 35.5, vicino a 36, un po' meno di 36. Molto bene. E qui siamo sul... ah, ero passato al... questo è il 54.02, il nonno del Royal Oak, è bello perché lo vedi lateralmente, è la metà di quello che vedete oggi, il famoso 15.550, se non sbaglio. Va bene, ragazzi, non c'è pietra di paragone. L'orologio è completo, coevo, è un A, quindi Mark I, richiesta 95.000, 5402 Royal Oak. Bene, e subito dopo qui abbiamo il Frank Muller, Casablanca, Crono, Tasti Tondi, 11.000 euro, 11.000 euro, datario ore 6, eh? Nuovo, completo di tutto. Ok, torniamo... qui siamo sul Tudor Big Block by Rolex, completo di scatola garanzia, queste signori ne vedrete in giro, ma è importante la condizione e la qualità dell'orologio, ottime, il prezzo 11.500 euro. Subito dopo abbiamo questo Apollo 11, in oro bianco, mille pezzi numerati, 25.000 euro, la richiesta dell'orologio è nuovo, completo, eh? Vedete che c'è il fondo a vista, ecco, ve lo faccio vedere poco, vedete? Anche questo c'è l'onda di Ginevra, si vede poco, ma comunque non voglio toccarlo, l'orologio è nuovo, lasciamolo così, 25.000. In oro bianco, poi abbiamo un bellissimo Crono IVC portoghese, completo di scatola garanzia, richiesta 4.800 euro. Parlando poi delle fiere, adesso, c'è stata appunto Ginevra, avrete visto, per gli appassionati, tutti sono andati in rete, ogni casa ha il suo sito e voi vedete tutte le novità, però le novità, ragazzi, non pensate di vederle, erano lì, il mese prossimo ci sono, normalmente, io mi ricordo, magari le cose sono cambiate oggi, ma quando venivano presentate le novità ai tempi, mi dicevano guarda che le novità per essere presenti al pubblico bisogna aspettare come la gestazione un bambino, quindi ci vogliono i nove mesi da quando tu li vedi nella fiera, quindi credo che le cose non siano cambiate, perché poi i tempi di produzione erano sempre gli stessi e quindi, va bene, comunque, io di novità ne ho viste tante, linea di massima, poi mi arriva, sono iscritto anche a una rivista, un giornale che mi arriva, è un settimanale, prima era mensile, adesso ho fatto il settimanale dell'orologio, mi arriva dalla Svizzera, a parte mi arriva in rete, per cui non è che… e anche lì ho visto diverse novità, qualcosa di carino di altri marchi li ho visti, lì bisogna poi… bello poi è soggettivo, perché poi alla fine io ho visto dei Tagoyer, ho visto diversi modelli, va bene, ecco, questo qui è il Breguet Type 20, mille pezzi prodotto in che commemorazione della Marina Navale Francese, la particolarità di tutto, l'orologio è lo stesso, ma la particolarità è la ghiera, guardate quanto cambi, mi piacerebbe avere uno da farvi vedere, cambia il mondo questa ghiera qua, è molto bella, mi piace molto, l'orologio è nuovo, completo, fa parte comunque sempre di quegli orologi che sono… tra questo e il Type 20 normale, io prendo questo, per me è una chicca questa, poi sono solo mille pezzi, per cui scatto la garanzia, 7500 Euro. Bene, qui abbiamo poi due reversi, però li devo cercare di farvi rivedere bene, uno e uno due, uno è il classic, quindi quello un po' più piccolo, lo definivano l'orologio da uomo, una volta per l'uomo e poi dopo è diventato l'orologio, il gran taglia è l'orologio da uomo e il classic, questo qui che era il classic era il reverso per l'uomo è diventato la donna, ok? 5000 la versione che vedete alla vostra sinistra, quella senza i secondi a ore e 6 come vedete e 9000, tutte e due scatole garanzia, 9000 questa con i secondi a 6, Jäger le cutre, reverso roggiallo, bene bene, vambi ora sul portoghese, questo è il rattrappante, il rattrappante ricordo che rispetto al portoghese che avete prima, anzi vi riprendo e vi rimetto uno vicino all'altro, allora, guardate, quello a sinistra è il, a sinistra guardando il televisore perché se no, quello a sinistra è il rattrappante, comunque lo riconoscete perché ha il tasto ore 10, non schiaccio i tasti, non sto a farvi vedere come funziona perché non mi interessa, vi garantisco però che funziona e non mi piace, come dire, sfruttare l'orologio per far vedere delle cose che poi dopo però vado a lavorare un movimento e non mi interessa rovinarlo, quindi carica manuale, quello rattrappante alla vostra sinistra, automatico quello a destra, quello che non si muove per intenderci, a parte che non si muove nessuno dei due. Comunque, carica manuale 5,2, scatola garanzia e 4,8 l'automatico, considerate che questo qui a 5,2 non è mai, io non mi ricordo di averlo mai potuto vendere a queste cifre, andava decisamente a cifre superiori, stiamo parlando del rattrappante portoghese, ricordo che il rattrappante è quello con la doppia laccetta per i parziali e come grado di complicazione fa parte degli speciali, quindi stiamo parlando comunque di orologi complicati e ricordo che ogni complicazione aggiunta per chi produce crea una problematica al cubo e non al quadro, tutte le volte che tu aggiungi, addirittura c'era un patec che era calendario perpetuale, riserva di carica, aveva la suoneria, riserva di carica, ripetizioni minuti, insomma e voi immaginate, se arrivi a 6 complicazioni potete immaginare il casino, la difficoltà per produrlo, decisamente, queste cose che io avevo imparato una volta che andavo, quando io importavo il marchio, io ho importato un paio di marchi svizzeri e mi piaceva andare a vedere, a parlare con i tecnici, a vedere e capire tutto quello che era la problematica della produzione, devo ammettere che è un mondo che mi affascina, ma che cerco di non farmi appartenere, perché la produzione è una cosa, la distribuzione è un'altra e io mi sono sempre dedicato alla distribuzione, che ritengo più divertente e anche più salutare, anche sotto profilo economico per me è sempre stato meglio fare questo, quindi questo è un che è il 51-30 in oro rosa, braccialato, Patek ora del mondo, vi ricordo che il 51-30 è il più bello ora del mondo fatto da Patek, detto anche da loro, e perché hanno smesso di farlo? È lì bello, è proprio lì bello, hanno smesso di farlo, non si capisce perché, però è sempre stato così, tutte le volte che la produzione di qualche casa, di qualcosa che è azzeccato, che alla gente piace, non si sa perché, la smettono, non lo producono più, prezzo di questo 70 mila, l'orologio è nuovo e l'anno è 2018, non è più in produzione da 5-6 anni questo orologio. Allora ci stiamo avviando verso il termine della trasmissione con uno spedo che è stato brillante, ma non troppo, un po' per l'età, un po' per il momento che è quello, però vi prometto che in proiezione riprenderò la verve che avevo in passato. Sta un attimino, in base alle richieste, anche se, ripeto, il mese d'aprile, veniamo da un mese di marzo difficile, il mese d'aprile un pochettino di ripresa, ma veramente poco poco e maggio siamo sicuri che qualcosa accadrà di positivo. Alla prossima da Marco Spero e dalla Watch & Clock. Buonasera a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Watch & Clock dal 1989, sempre presente in largo settimino severo. 3, Traversa di Corso Vercelli. Veniteci a trovare, vi aspettiamo.